Continuano le discussioni, in particolare nel centro-destra, dopo le elezioni del nuovo presidente della provincia. Una vicenda molto delicata su cui l'ex assessore regionale Paolo Gatti ha dichiarato al quotidiano Il Centro in primis di non essere più disponibile alla candidatura per le prossime elezioni comunali a Teramo, ma ha anche usato parole dure nei confronti del centro-destra che per il leader di Futuro In di fatto non esiste più. In particolare il suo attacco è stato rivolto al sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, coordinatore provinciale della Lega, accusato di aver usato, strumentalizzato e poi tradito il candidato Massimo Vagnoni. Immediata la risposta da parte del sindaco costiero, nonché consigliere provinciale Costantini. Mi fa sorridere, faccio una risata, cioè chi ha portato il centro-destra o un pezzo del centro-destra a fare accordi con un consigliere regionale, due partiti che sono opposizione di Marsiglio non sono di certo io, ma è qualcun altro. Poi è evidente che qualcuno non solo ha deciso di portare un pezzo del centro-destra a fare accordi con queste persone che sono di centro-sinistra, ma voleva anche decidere dove andassero a votare gli esclusi. Cioè noi non siamo stati minimamente citati se non come sigle minori, non è stato proposto nulla ai due partiti di centro-destra come Forza Italia e Lega per ricucire questo strappo, perché forse qualcuno pensava che non eravamo determinanti alla accozzaglia, alla frittata che era stata fatta tra Azione, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, il consigliere Sandro Mariani. È evidente che poi noi in autonomia decidiamo di andare a votare, non è che ce lo deve dire qualcun altro dove dobbiamo andare a votare. Inoltre, secondo alcuni rumors, visto le dimissioni di Luca Frangioni dalla carica di vicepresidente della provincia di Teramo, l'incarico sarà conferito proprio alla Lega, quindi ad Ivan Costantini che ha di fatto spinto D'Angelo verso la vittoria. Ma lì deciderà il presidente in autonomia, ricordo a tutti però, sempre sorridendo, che il sottoscritto è stato il secondo più votato e sono sempre quei capi bastone che decisero che il sottoscritto non solo non doveva essere coinvolto in questa tornata elettorale, ma la scorsa, nonostante fosse stato il secondo più votato, non ha ricevuto praticamente nessuna delega. Ricordo anche a tutti che il sottoscritto è anche il sindaco, l'unico sindaco eletto all'interno del consiglio provinciale, sindaco del secondo comune della provincia di Teramo. Quindi comprendete bene che chi pensava di fare accordi senza la Lega, senza Forza Italia, senza il sottoscritto, ma preferiva farli con il Partito Democratico e con azione, ha miseramente fallito il suo piano.